Bosco Clima per l'ambiente delle valli del Verbano, cosa porterà questo progetto? Si tratta di una risposta concreta ad un tema che ormai è assolutamente di ordine quotidiano, cioè le ripercussioni dei cambiamenti climatici sui nostri territori. Grazie ai finanziamenti ricevuti stanno per essere messi in campo nel prossimo triennio 29 progetti che coinvolgeranno alcuni comuni della comunità montana valli del Verbano e con l'incontro di oggi diciamo che si entra nella fase operativa con un coinvolgimento diretto delle amministrazioni comunali e dei tecnici che ci supporteranno nell'iniziativa. Oltre a questo progetto, a questi interventi, può essere anche un inizio di un percorso diverso per vedere l'ambiente in un modo nuovo? Sicuramente c'è una logica in questo progetto di salvaguardia e di rilancio anche da un punto di vista economico che si sposa con le linee che già da tempo la comunità montana sta adottando. Probabilmente però questo progetto può essere l'occasione per un cambio di passo, per un'operatività sempre maggiore.